Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo su un nuovo... ecco, bello Fall Guys Visto che tutti lo stanno portando, lo voglio portare pure io, Fall Guys E' un po' scettico di prenderlo Ma alla fine mi son convinto Sì, ma che ce ne frecco Bene, incominciamo Non so, ho visto solo dei video, ma... Sembrava bello come gioco, speriamo Oddio La musica... ma... Deve abbassare che mi sto suonando le orecchie Beh, eh... R2X per saltare L'R2 per acchiappare Ah... Ok... Outfit... Oddio... Che cos'è? Ah... Vabbè, allora... Andiamo... facciamo così Sì, almeno... Un... Blu Ecco Che cos'è? Ah, bello, mi hanno dato pure un trofeo Ma che cazzo... Ma che cazzo... Ma cazzo... Bellissimo Va bene... Fatemi un attimo osservare Perché voglio capire un po'... Ah, qua... C'è praticamente un pass battaglia Bello... Bello... Ah, qua l'hot dog... Hot dog... Il pollo... Giustamente... Poi... Ah... Ti puoi comprare le skin vincendo le partite... Beh, direi... Che è il momento di giocare... Oh, mamma mia... La musica come... Non lo so... Ah, è la madosca... 56 su 60... Io... Mamma mia raga... Non sto facendo più video su GTA... Perché... Vi farò una sorpresa... Vi farò un video molto... Diverso... Ma che so' l'ultimo... Ah... Oh, mamma mia... Si so... Voglio capire... Andiamo... Raga, c'ho l'ansia... Oh... Salta... La cosa mi sembra che le fa un'ora dopo... Infame schifosi... Lasciatemi... Eh, vabbè... Oddio... Raga... No... Si salta... La cosa le fa in ritardo... Ma va bene... Ok... Aia... No... Perfetto... Corri, 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 corri Marazzi, vabbè Ha rotto impennato dall'altro lato No, vai Vai a quel paese Si salta Perché non ti riprendi Personaggio Raga, ho paura di non qualificarmi Figuratemi Oddio, che strano Questo gioco Questo fall guys No, ti prego Le cose le fai in ritardo Che brutto 11 sono qualificati Ok Mi prendo Ok raga, mi qualifico Stavo scherzando Non ci credo Che brutta cosa No, vi prego Ok raga, siamo fuori Prima tentativo Ci può anche stare No Mi prego Eh vabbè Questo gioco Oddio No No Perché devo aspettarli Benissimo Guarda Ma che cosa fai Se siamo usciti al primo gioco Mamma mia Iniziare così Non mi è piaciuto Per niente Vediamo Dai Ecco qua Che cos'è Ah ho capito Spero Ah ok Sì Devo aspettare che le porte si abbassino La faccia Ma è lunga Questa cosa Qualcuno Ah ok Pronti Ok Si va No Fammi Mamma mia Quanto Ok Vai Corri No Ok raga Perfetto No No Si No Non ci credo Nora Che bello Che bello Essere eliminati Così Guarda Mamma mia Probabilmente Dovrei già Desistare All'altro Sono Ma Si sta all'altro Non è carino Il gioco Però Mamma mia Qua Qua Trentaduesimo Ma Ne Anno Non c'è L'obiettivo L'obiettivo Di questo video Non sarà Vincere Ma sarà Arrivare Al secondo Gioco Cos'è Oh Gesù Questo mi fa Una paura Eccoci Quanta Cavola Di roba Ok Si parte Oddio È difficilissimo Perché la gente Mi cade in testa Che cosa è Successo Permesso Perfetto Apriti Oh Gesù Qua bisogna Prendere il tempismo Ma che tempismo Si va dritti Ti fa scivolare Sì raga Qua siamo Qualificati Qualifed Ok L'obiettivo È stata raggiunta Eccoci Raga Mandatemi la richiesta Se avete Fall Guys Magari Apparirete In un mio video Ok Perfetto Ah Che cos'è Non ci credo Tutti i video Che ho visto Tutti quanti Lo odiavano Sto gioco Sembra facile Illuminati Oddio raga Si crea un ingorgo Salta Così tanti E' così tanti Eliminati E' già Raga Raga È difficile Sembra facile Che ma non lo è Per niente Dai Altri due Vanno eliminati Dai cadete L'ultimo Se cade io mi arrabbio Sì Qualificati Ok È stato proprio veloce E indolore Questo game Diciamo così E ci siamo Ancora Vai Oh Oh E quanto deve girare Va bene La suspense Che cos'è Auto jump Andai Trotto Oddio Questa Team Bisogna saltare dentro Quei cosi Per dare i punti Team In blu Levati Ci hanno In fame Ah No No Mamma mia Ma quelli là Sono forti I gialli Oddio Qua è Chi lo vede Per primo Ma perché Non mi salti Amico Guarda I gialli Ti spingono Il famoso Eh raga Mi sa Che Ce ne usciamo Cioè No Mi sa Ce ne usciamo Noi Vai Manca ancora Un minuto Corri Contro Senso Sì Bravo 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 Monta dei rossi No Ce l'ho Dato No Ho preso il palo Grande Grande con un corno Mannaccia Guarda Guarda Cioè Sto sempre Quella là Che sta Più 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 Amanti di te Dai Questo è mio Ma va a cagare Vai Vai È infamissimo Questo qua Corri È infamico È infamico È infamico Già Votermi voi Vediamo Non l'avevo mai visto Quel giochino Vediamo La fine è divertente Questo gioco Mi sa che sembra Andrà un sacco Di moda Quello di Primo Vediamo La scuola Non è Facile Perché Poi sa Tutto il gruppetto Che va di là Tu cadi Perché C'è più massa Di me Vabbè Ha arrivato A un millimetro Dal vincere Ha un salto Fatto bene A vincere Sono arrivato Eccoci qua Via Si parte Si parte No Guarda Quanta C'è Salta No Salta Oh Mettete Pesso Di qua Venite Ok Ok Si Mamma mia Ehi Guardala Ma Ma quello Eh Raga Mi prego Infami Non ci credo Non ci credo Salta Salta Ma manca ancora Un botto C'è È un bel gioco Non pensavo Così tanto Non ci credo Questo È il mio punto Debole Dai Sono tuttissime Petane Dai Vi prego Sì Allora Questo salto Lo devo fare bene Sì È qualificati Raga Sì Va Adesso Dovevo Spettare Quelle raga Non ci vanno Ancora Fatti Vai Fratello Eh no È rimasto Non lo controllo E ha vinto il pollo No Era Il pollo Cioè Il pollo L'unicorno Vinci Per ultimo Olè Olè 36 qualificati Vai Oh mamma mia Ecco qua Di nuovo Che cos'è Non ho visto Questo L'ho già visto È sempre Team Guardate Adesso è scritto Team Infatti In alto a destra Qua dobbiamo Portare le pali Che hanno Dal nostro lato Vin Che team sono Dai Blu Prima Ho fatto Cagare Adesso No Che cosa Ho fatto Perché Sono Uno Ok Non ci Cagare Volevo fare Il tap Invincente Andate No Cadiz Che fossi Eh va bene Cagare 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 Cagare